Il piacere del leggere va avviato, potenziato e consolidato all'Istituto Comprensivo di Difesa Grande a Termoli, un progetto che si è posto proprio questo obiettivo, un viaggio tra realtà e immaginario alla scoperta di sé e degli altri. I bambini delle classi terza e quarte del plesso di Via Po hanno incontrato l'autore di Storia di una matita, uno scrittore originale che sa parlare soprattutto ai più piccoli. Il linguaggio di Michele D'Ignazio coinvolge cattura. Con Storia di una matita ho voluto parlare di sogni, quindi è l'importanza di sognare, di avere dei sogni. L'Apo sogna di diventare un bravissimo disegnatore, che fa le copertine dei libri, che illustra i fumetti, che fa le mostre nei musei, però ho voluto anche raccontare di come poi anche inseguendo un sogno bisogna trovare un equilibrio. E quindi diciamo che con la matita ho potuto giocare tantissimo di metafore ed è bello scoprire ogni volta che appunto i bambini riescono a cogliere tutte queste metafore, anzi a volte molto molto di più rispetto a quello che volevo raccontare io. Supportati dalle insegnanti, i bambini sono così più attenti all'ascolto, alla comprensione orale, la lettura vissuta anche come un'esperienza di condivisione, un fattore di socializzazione. L'evento nasce principalmente per appassionare i bambini alla lettura. Avevo letto, conoscevo questo libro e mi sembrava storia di una matita, mi sembrava appropriato per far incuriosire i bambini e appassionare la lettura. E attraverso questo libro noi siamo riusciti a far venire fuori le emozioni dei bambini e i sogni dei bambini. Hanno realizzato infatti vari cartelloni sulle emozioni e sui loro sogni.